Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. La dinastia di oggi dei Borromeo comprende i due fratelli, Gilberto Borromeo, che ha sposato Bona Borromeo, dal loro amore sono venuti al mondo due figli, Vitaliano X e Federico Borromeo. Il secondo fratello si chiama Carlo Ferdinando Borromeo, che ha sposato Paola Marzotto, con cui ha avuto due figli, Beatrice Borromeo e Carlo Ludovico Borromeo. Ma Carlo Ferdinando, prima di sposare la figlia della stilista Marta Marzotto e del conte Umberto Marzotto, ha avuto un altro matrimonio e anche altre tre figlie, Isabella, Lavinia e Matilde. Quest'ultima è la più piccola della famiglia ed è una donna molto riservata, conosciamola meglio. Chi è Beatrice Borromeo? Tutto sulla sua carriera e vita privata. Classe 1985, nata il 18 agosto a San Candido in provincia di Bolzano. Come abbiamo detto Beatrice Borromeo Arese Taverna è la figlia di Carlo Ferdinando Borromeo e Paola Marzotto. Uno dei suoi antenati paterni più conosciuti era il cardinale Carlo Borromeo, diventato poi santo. Beatrice Borromeo è la più nota della famiglia. Ha conseguito una laurea in scienze giuridiche a Milano. Lei è una nobile, modella, conduttrice, giornalista, moglie, mamma e scrittrice. Ha sfilato per Valentino, Chanel Trussardi, Blue Marine, Armani e Alberta Ferretti. Inoltre ha lavorato come giornalista e conduttrice con Michele Santoro ad Annozero, il Newsweek, Radio 105 con Il Fatto Quotidiano. Come abbiamo detto è anche una scrittrice, infatti, ha scritto libri per bambini e è una sua casa di produzione per realizzare documentari sul cambiamento climatico e femminismo. Riguardo la sua vita privata, sappiamo che nel 2015 è convolata a nozze con Pierre Casiraghi, figlio di Stefano Casiraghi e Carolina di Monaco. Dall'amore tra Beatrice e Pierre sono nati due bambini Stefano Carlo e Francesco Carlo Alberto Casiraghi. Insomma, la Borromeo è nota al pubblico per la sua carriera, ma sapete chi è sua sorella minore? Si chiama Matilde ed è davvero bellissima, conosciamola meglio. Chi è Matilde? Tutto sulla sorella di Beatrice Borromeo, classe 1983, nato l'8 agosto a Milano. Matilde è di una bellezza stellare, ed è una delle sorelle Borromeo. Per la precisione è la terza, dopo Isabella, moglie del conte Ugo Maria Brachetti Peretti e Lavinia sposata con il presidente di FCA, John Elkan. Lei è la sorellastra di Beatrice perché quest'ultima è nata dalla relazione tra Carlo Borromeo e Paola Marzotto. Invece, Matilde è nata dal matrimonio tra Carlo e la modella tedesca Marion Zota. Riguardo la sua vita privata sappiamo che è convolata a nozze con il principe Antonius von Furstenberg, ma i due si sono separati nel 2019. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.